Al passaggio in zona cambio in testa sono rimasti in tre Giorgio Di Centa numero uno Giovanni Gullo numero due e con il numero quattro Luca Orlandi rispettivamente Fiamme Gialle Carabinieri e Fiamme Oro o meglio Carabinieri Fiamme Gialle e Fiamme Oro mi correggo più indietro vedete il gruppo degli inseguitori ritardo di circa un minuto Torniamo alla gara femminile dove viaggia con il suo passo Antonella Confortola numero 21 l'atleta della Forestale staccata di 16 secondi c'è Melissa Gorra con il numero 23 quindi terza posizione per Silvia Rupil staccata di 22 secondi dalla Gorra Allora Melissa Gorra per l'esercito Silvia Rupil per le Fiamme Gialle squadra A Ultimo cambio intanto per la squadra Forestale A che sta guidando la gara femminile Arianna Follis ha sostituito Antonella Confortola negli ultimi 5 chilometri Cambiano anche le atlete della squadra dell'esercito Melissa Gorra ha passato il testimone a Magda Genuin e per le Fiamme Gialle A Stefani Santer ha sostituito Silvia Rupil negli ultimi 5 chilometri di gara mentre siamo tornati a seguire la gara maschile posizioni invariate al comando con il terzetto di Centa Gullo e Orlandi saldamente in testa mentre gli atleti Villarubla e chi li segue sono attarlati di un minuto e 16 nella gara femminile passa solitaria al comando mantengono la testa della gara le sciatrici della Forestale è Arianna Follis la 32enne Valdostana in seconda posizione c'è Magda Genuin ha 24 secondi di ritardo gareggia per il gruppo sportivo dell'esercito 30 anni terza posizione per Stefani Santer numero 22 che ha 44 secondi di ritardo da Arianna Follis la fondista del Fiamme Gialle squadra A con il 25 è passata anche Ilaria De Bertolis Fiamme Oro Marina Piller eccola qui numero 24 per la squadra forestale B queste le prime 5 posizioni delle 6 atlete in gara nella gara femminile torniamo in zona cambio per la gara maschile il solito terzetto al comando Gullo Orlandi di centa quindi Valerio Checchi quarto atleta della forestale B qualche metro di ritardo per Scola e Carrara torniamo in testa alla corsa con il terzetto al comando Giovanni Gullo Luca Orlandi terza posizione per Giorgio di centa siamo allora alla seconda frazione della 4 per 10 maschile Scola ha raggiunto Checchi quindi bella rimonta di Scola ritardo 20 secondi ben ritrovati a Nevesport allora campionati italiani gara di staffetta inizia l'ultimo giro del percorso per Arianna Follis ultima staffettista della gara femminile seconda posizione per Magda Genuine staccata di 27 secondi dalla Follis Stefani Santer ha 9 secondi di vantaggio in terza posizione su Ilaria De Bertolis che vediamo passare con il numero 25 quindi siamo a metà dell'ultimo giro ora su Arianna Follis del gruppo sportivo forestale in questo in questa gara forestale squadra seconda posizione per Magda Genuine sempre a 28 secondi il suo ritardo sulla Follis un minuto e 08 invece per Stefani Santer dalla testa della gara la Santer gareggia per le fiamme gialle quindi resta invariato anche lo svantaggio della De Bertolis Ilaria De Bertolis fiamme oro squadra A si prepara intanto Pietro Piller-Cottler per dare il cambio a Giorgio Di Centa cambio allora per i carabinieri proprio Di Centa passa il testimone all'atleta di casa Pietro Piller-Cottler ieri secondo ai campionati italiani attenzione cambio per le fiamme oro Orlandi lancia Fiorentini le fiamme gialle al Gullo lancia Morigl hanno 9 secondi di ritardo poi le fiamme gialle B, Scola lancia Zortea e Checchi lancia Wieser per la squadra forestale A eccolo allora Pietro Piller-Cottler in testa atleta di casa rammaricato per essere giunto solo secondo ieri nella gara singola mentre vedete il duo di inseguitori formato da Fiorentini e Morigl poi 35 secondi di distacco per Zortea e Wieser con il numero 3 e il numero 7 siamo all'arrivo perché è il momento di festeggiare la squadra vincitrice nella staffetta Arianna Follis quindi porta alla vittoria la squadra forestale A tempo complessivo delle tre atlete Sabina Valbusa, Antonella Confortola, Arianna Follis 47 minuti e 06 distacco di 31 secondi per Magda Genuine o meglio sì per Magda Genuine per la squadra esercito A composta anche da Elisa Broccar e da Melissa Gorra terza posizione invece per Stefani Santer fiamme gialle A che arriva vedete piuttosto stanca dopo la sua frazione seguita da Ilaria De Bertolis con la tuta rossa il numero 25 quindi terza posizione per le finanziere Morandini, Rupil, Santer quarto posto per le poliziotte Antonelli, Pellegrini, De Bertolis intanto siamo tornati su Pietro Pillar-Cotter con Fiorentini e Morigl però li vedete sempre a inseguire molto veloci con il numero 4 c'è Marco Fiorentini fiamme oro e poi avete visto Morigl ancora Florian Kostner con il numero 5 Daniele Compagnoni numero 6 gareggiano rispettivamente per i Carabinieri B e per l'esercito A Pillar-Cotter in testa Gli inseguitori sono sempre loro Morigl e Fiorentini gli hanno recuperato 2 secondi mentre 53 secondi di distacco per Wieser e Zortea eccolo allora Pietro Pillar-Cotter Carabinieri squadra A 35 anni avete intravisto poco fa gli inseguitori eccoli con il numero 2 Thomas Morigl per le fiamme gialle con il numero 4 Marco Fiorentini per la fiamme oro quindi con il numero 7 c'è David Wieser per la forestale con il numero 3 Agostino Zortea per le fiamme gialle più indietro Compagnoni e Florian Kostner numero 6 e numero 5 attenzione alla zona cambio c'è una svolta nella gara Morigl ha raggiunto Pillar-Cotter ha recuperato quella manciata di secondi che gli mancavano Fiorentini mantiene 9 secondi di ritardo aumenta il distacco dalla testa per Wieser numero 7 e Zortea numero 3 hanno un minuto e 0,6 da Pietro Pillar-Cotter e dal suo sfidante ora Morigl che l'ha raggiunto un minuto e 46 il distacco di Kostner e Compagnoni che avete appena visto uscire dallo schermo torniamo in testa allora a seguire questa bella sfida vedete allora Pietro Pillar-Cotter dietro di lui lo tallona da molto vicino Thomas Morigl mentre Fiorentini aumenta un po' il suo ritardo è passato a 18 secondi per il poliziotto Marco Fiorentini attenzione allora un minuto e 17 Zortea e Wieser stanno dando veramente spettacolo una bella sfida anche tra di loro numero 3 Zortea numero 7 Wieser rimasto da solo Daniele Compagnoni per lui un ritardo di un minuto e 46 Florian Kostner probabilmente ha perso un po' di secondi